Telennebbia Telennebbia Programma Telennebbia Venanzio In studio Martina Ma scusa è Marina Oh sei Raffina Ti stavi preparando Le luci Lo studio Siamo sparrottando 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 Accendi tante le inizie a sparrottando Allora se tutti è un posto tu li dai Abbassare con la musica lì Ginestro Insomma la sigla va bene Però non esageriamo Spegniamola Mettiamo un posto Che se no dopo Tocca sempre lavorare A tutti quanti Con gli soliti Allora questa sera Ci abbiamo un grande ospite Il nostro amico solito Che viene Che non ci dia niente Per cui lui viene volentieri Insomma Una roba fra amici Ringraziamo Qua il prete Che ci dà lo spazio Di una parrocchia Anche quella storia lì Delle biciclette Va un po' meglio Però ancora Non abbassiamo la guardia Perché insomma C'è sempre una bicicletta Sul cancello Che a volte dà fastidio E sappiamo che c'è tanta gente Che ci segue Vengono a ringraziarli Che io sappia Insomma almeno Non so La Maria Giovanni Giacomo E il suo cugino Suo nipote E il fruttivendolo C'è anche il Gino E il Gino E il meccanico Anche no E il meccanico Si guarda sempre Ciao Arturo E numero uno Meccanico E bravo Dobbiamo dirgli bene Cosa fai Cosa non fai Perché se no Lui fa troppo Poi ti mette in conto Però È il nostro amico Noi non parliamo mica male De nessuno Allora Questa sera Introduciamo un tema importante Perché è inverno Ed è inverno C'è sempre questo fastidio qua È il nostro amico qua Otto prego Entrare pure Buonasera 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 Se puoi sentarsi lì Grazie Ci abbiamo messo due scatole Dei noccioline Così Gentilissimi Insomma C'è un problema Adesso Di cui parliamo Che è il problema Lannosa questione Delle cimici Sottoscrivo Cimici Verissimo Quelle verdi Marron Marron glacé Sono più o meno Questi due colori qua Mediamente 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 Ma lui C'ha C'ha una testa L'ha fatto una soluzione Proprio gentile Soluzione per le cimici Ci spieghi Al nostro pubblico È pressoché unica Come soluzione È diretta Quasi dittatoriale Ah è una soluzione Finale Di quelle finale Bravo Finale È soluzione proprio Come la ricrescita Proprio soluzione Che le Ma le spiego Come e cosa Come e come Allora io poi Ci ho scritto anche Dei vari libelli Delle cose Delle riviste Ma andiamo al assunto Sì Chi Al nozzolo Nella questione Ah va bene Bene Allora Cimici Voi ne conoscete Le avete un po' Come dire Subite Nelle varie stagioni Dell'amore E soprattutto Nella stagione Tardo-invernale Cosa succede? Che essa Oggetto Insetto Perché io sono Ogni antologo Dell'insetto Essa Ogni tanto Si posa La si posa Soprattutto con la verdina La si posa Sul tavolo Parterra Sulla finestrina Sul lampa Allora qual è la idea? Mentre che la si posa Invece che scacciarla Invece che creare Delle confusioni Mentre stai mangiando Il tortellino Magari ti arriva lì La farfulla E ti arriva lì Proprio vicino Il tortellino Oh no Con calma Proprio con nonchalance Cosa succede? Che dovete pensare Che noi abbiamo creato Un cimiciaio Per tutte le tipologie De cimici Un cimiciaio Cioè un posto Dove tutte le cimici vanno Vengono esterritte Volta che volta Sì Allora Il cimiciaio Si riferiscono da sole Anche Sì Ma sai perché? Sa perché? De spontanea volontà? Quasi che sì Perché? Perché c'è un olezzo particolare All'interno di questo cimiciaio In finta resina legnosa Che poi vi spiegherò Trovate nelle edicole Della quarta Della quarta Della rivista Appunto Nientologo Sentitivologo Allora voi Sentite appunto Che vi rendete conto Che c'è questo Olezzo particolare Che è Un misto Miele Curcuma Rame Catramoso Per cui Vanno in brodo Di giugiole Si avvicinano Allora 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 Spieghiamo bene Praticamente Tanti compri Il cimiciaio Che è una roba grande Così Cioè non è grande È piccolo Meglio piccolo Lo metti in un posto In casa Loro sentono Questo profumo Questo odore Se infilano dentro Esatto Una che una E basta Loro stanno là Tutta la vita Poi là C'hanno tutti I loro servizi Possono chiedere Il reddito di cittadinanza Lì dentro 110% Possono far tutto E noi siamo contenti Loro sono contenti Non pagano l'appunto Sotto vuoto Sì Poi alla fine Sono anche delle ricette Cinesi Insomma Una roba un po' strana Volendo Possono anche cucinare E deglutire Noi qua però Io non è che Adesso amo Ste cose Già con le rane Mi sembra che stiamo esagerando Sì sì Per risolto quello dei cimici Non lo mancherei Almeno non adesso No ma perché lei Non è un coreano Clandestino Adesso vediamo Però se lo mettono Nell'agenda 2035 Siamo più o meno lì Che dicono Stiamo lì Che gli altri Allora ringraziamo Doviamo chiudere qua Che riscaldamento costa Acquistateli Della quarta Dell'edicola In edicola Trovateci viciaio De otto paraclito E reclito Allora grazie Ci vediamo Alla prossima puntata Con un altro tema importante La ringrazio molto Troppo che gentile Complimenti per il lock Lock? No Dan Il suo lock Ah il look Il look È l'outfit L'outfit No quella non la conosco Vai Cosa Di Nertro Metti su la musica qua Salutio